Lasagne con asparagi e taleggio Le lasagne con asparagi e taleggio sono un piatto sfizioso e saporito, adatto sia a pranzi che a cene in famiglia. La preparazione è semplice, e può essere realizzata anche da chi ha poca esperienza in cucina. La cremosità e la delicatezza data dal taleggio la rendono un piatto unico davvero irresistibile. Gli ingredienti che occorrono per preparare la lasagna sono 400 grammi di lasagne fresche 500 grammi di asparagi 200 grammi di taleggio 1 cucchiaio di burro 2 cucchiai di farina 1 litro di latte Sale Olio extravergine di oliva Per preparare la lasagna con asparagi e taleggio, inizia pulendo gli asparagi. Taglia la parte fibrosa del gambo e lava gli asparagi. Cuocili in una pentola con acqua salata in ebollizione per alcuni minuti, fino a quando non saranno teneri. Una volta cotti, scolali e tagliali a rondelle. In una casseruola scalda il burro e unisci la farina. Mescola bene e aggiungi a filo il latte, sempre mescolando. Quando la besciamella sarà densa, spegni il fuoco e unisci il taleggio, precedentemente tagliato a dadini. Aggiungi anche un pizzico di sale. A questo punto, prendi una teglia da forno e ungila con un filo d'olio. Fai uno strato con la salsa di besciamella, seguito da uno strato di lasagne, poi uno strato di asparagi e infine uno strato di taleggio. Procedi così fino a quando finiranno gli ingredienti. Inforna la teglia per circa 30 minuti a 180 gradi centigradi. Quando saranno pronte, sforna le lasagne con asparagi e taleggio e servile ancora calde.